malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene oggi parliamo di povertà nel 2023 le famiglie italiane in povertà assoluta sono arrivate a 2,2 milioni rispetto a 1,5 milioni del 2014 con un dato stabile rispetto al 2022 cioè 7 milioni di famiglie italiane circa più di 7 milioni di famiglie italiane in povertà tra il 2014 e il 2023 cioè 9 anni una follia secondo l'istat la povertà assoluta individuale ha colpito il 9,7 per cento della popolazione cioè circa il 10 per cento degli italiani è in povertà assoluta ma vi rendete conto della drammaticità quando eravamo al 6,9 nel 2014 mentre quella familiare è salita all'8,4 cioè 8,4 per cento delle famiglie sono in povertà assoluta rispetto al 6 di 9 anni prima in totale 5,7 milioni di individui vivono in povertà assoluta rispetto ai 4,1 milioni di 10 anni fa cioè noi abbiamo circa un 10 per cento di italiani in povertà assoluta tra le famiglie con capo famiglia operaio ho assimilato il tasso di povertà è aumentato al 16,5 per cento dal 14,7 del 2022 cioè vuol dire che anche le famiglie che hanno un posto di lavoro stabile non riescono più a sopravvivere la povertà è particolarmente alta nel mezzogiorno oltre il 10 per cento e al centro quasi il 7 il nord diciamo quasi l'otto per cento nonostante un mercato del lavoro tra virgolette positivo con un aumento di occupati ma anche qui vi ho già spiegato che i dati vanno interpretati con le pinze perché se tu consideri occupati occupati a termine o con contratti deboli sono occupati per modo di dire l'inflazione ha annullato i possibili miglioramenti e le spese delle famiglie in povertà assoluta sono diminuite dall'1,5 per cento in termini reali cioè quello che conta il potere d'acquisto i bonus per energia e gas hanno tentato di ridurre la povertà tra i minori la povertà assoluta ha raggiunto quasi il 14 per cento abbiamo 1,3 milioni di bambini e tra i giovani è stabile a circa il 12 per cento poi parliamo degli over 65 anni con quasi 887 mila persone coinvolte insomma la smetto di leggere dei dati perché quello che conta il risultato io l'altro giorno parlavo sapete che io di mestiere faccio consulenza agli imprenditori mi trovate sul sito valerio malvezzi punto it parlavo con un imprenditore del settore supermercati con lui ragionavo e si ragionava sul fatto che noi fra 10 anni avremo una generazione di quarantenni poveri perché se i giovani oggi a 30 anni non hanno lavoro e sono poveri noi ci aspettiamo fra 10 anni una generazione di quarantenni in povertà questo grazie all'europa naturalmente e grazie alla mamma unione europea che tipo di società avremo che tipo di consumi avremo mi fermo qua è un po triste buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene